Il giorno del salentino doc Stefano Trinchera che è tornato a casa nella sua amata Lecce nel ruolo di direttore sportivo all'interno dell'area tecnica diretta e coordinata dal direttore generale Pantaleo Corbino, un maestro di lavoro e di vita, un esempio da seguire per il Neo DS. A fare gli onori di casa è stato il presidente Saverio Sticchi Damiani. È una giornata importante perché segna il ritorno a casa di Stefano Trinchera, un ritorno a casa per cui noi siamo davvero felici. Stefano è stato, siamo legati a lui oltre che da grande stima, da grande affetto e da un ricordo bello di un primo anno passato insieme nella nostra prima avventura, il nostro primo anno all'interno del calcio. Stefano è stato il nostro direttore sportivo in una stagione complicata perché era la nostra prima stagione nel calcio in cui ci fu un avvicendamento societario nel corso della stagione. Fu un nome che scegliamo convintamente già ai tempi, visto l'amicizia che mi ha sempre legato a Pantaleo Corbino, ci confrontammo un po' su quale potesse essere una figura da poter affiancare nel nostro progetto e già in quella sede ci fu emerso il nome di Stefano Trinchera che era ai tempi un giovane direttore sportivo all'inizio della propria carriera. L'ex DS del Cosenza nativo di Copertino, classe 74, si è legato al club di via Colonnello Costadura con un contratto fino al 30 giugno del 2023. Come se fosse la prima volta invece ritorno a casa e per me è sempre un'emozione fortissima essere qui con voi, con il presidente, con il direttore Corbino che insieme hanno sposato questa mia candidatura con tutta la proprietà e questo mi inorgoglisce veramente, è un motivo di vanto perché io sono leccese, però Lecce è una grandissima piazza apprezzata da tutti gli addetti ai lavori, ha una storia che è un grande blasone, quindi per me pensare di essere un tassello importante in questa società è veramente qualcosa di straordinario, di immaginabile. è un sogno dietro l'altro che si avvera per me perché quando ho iniziato a fare questo lavoro speravo un giorno non di emulare ma quantomeno di avvicinarmi così alla professionalità, allo stile di Pantello Corbino. Non è che adesso voglio fare una sviolinata assolutamente ma lui io lo considero un maestro e è uno dei dirigenti se non il più bravo d'Europa ma io lo considero uno dei top quindi per me arrivare a lavorare al suo fianco con una società molto vicina a me con cui ho un legame così forte da quando siamo partiti cinque anni fa per me è un, come ho detto prima, un motivo di grande vanto e quindi è un motivo in più per sposare la causa, per essere invogliato a fare meglio. E sulla Rosa poi dice la sua. Io sono operativo da pochi giorni, però col direttore che ha tracciato le linee guida da quando è cominciata questa nuova stagione sportiva preso atto, noi abbiamo le idee chiare, manca poco perché già c'è una struttura di squadra abbastanza competitiva e di riflesso a gioco forza qualche uscita ci sarà. Quindi il messaggio che deve arrivare a voi è che comunque non facciamo le cose tanto per fare perché questa è una società di gente che ha grande passione per questa maglia, per questa terra e ha un grande rispetto per la propria tifoseria. La parola passa poi al direttore Pantaleo Corvino, molto entusiasta di aver riportato Trinchiera in giallo rosso. Io per raggiungere, come ho detto prima, obiettivi e risultati mi avvalgo così di un mio modello. L'ho avuto vicino quasi sempre, sono 30 anni che stiamo prima da giocatore, poi dopo. Diciamo che io non mi esento, anzi per me è un onore, è un privilegio poter dire di essere cresciuto davanti a Mimmo, vicino a Mimmo Cataldo e a Cappini, se credi, anche di altri direttori sportivi. Mimmo perché mi era vicino ma anche di quelli che mi sono stati qualcuno lontano. Io immagino sempre il calcio come chi deve stare zitto e vogliono parlare sempre loro, la maggior parte di questi. Stefano è stato accanto a me da tanti anni, ho apprezzato questo, il suo silenzio nell'ascoltare e a rubare e a capirne delle cose. È logico che quando fai delle scelte, un maestro, se è una bottega, chiamiamola bottega, di chi si fida di più, di quello che pensa che ne sa più del maestro mentre sta lì o quello che cerca di capirne i segreti del maestro. Io ho cercato nella scelta di Stefano di vedere in lui quello che vuole sempre imparare e lo fa in silenzio e lo fa in in maniera giusta. Grazie a tutti.